Andrea ok che mi sta ricevendo con l'Aero88 e io ti sto ricevendo con il nipote Andrea eh il CRM R6 eh, quello che hai visto quindi ottimo segnale che ti sto ricevendo in banda larga magnificamente questo è quanto tempo buono qui a Roma Andrea fa molto caldo, molto umido quindi sono i pantaloni corti nel mio shack qui a te Andrea, i W5 c'è all'India per l'Italia 0 Milano Zara Roma bene